Ciao ragazze! Allora eccoci qua finalmente con il sorteggio della vincitrice del giveaway proposto sul mio profilo Instagram. Allora un video un po' particolare, non mi vedrete perché sono molto influenzata. Ho iniziato con un fortissimo raffreddore e adesso siamo arrivati alla febbre. Quindi penso di avere proprio la vera e propria influenza di stagione. Sono distrutta, sono a pezzi, non riesco alzarmi dal letto, non riesco alzarmi dal divano, sono veramente una amoeba. E perciò vedrete solo il mio cellulare oggi, ma anche se le forze sono veramente proprio poche, 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 ci tenevo a girare questo video perché so che siete super curiose di sapere chi è la vincitrice di questo giveaway. Allora, iniziamo, andiamo sul mio profilo Instagram, allora cerchiamolo, eccolo qua, andiamo a cercare la foto inerente a questo giveaway. Eccola qua, siete state tantissime ragazze a partecipare, siete state 111, non mi aspettavo questa grandissima partecipazione, pensavo veramente a un numero più basso, invece siete state tantissime per questo vi ringrazio e vi ringrazio anche a nome di Cristina che ogni volta mette in dono queste meravigliose creazioni che sono veramente meravigliose e quindi ti do un grossissimo bacio e grazie perché ogni volta rendi i miei giveaway con un tocco speciale. Allora, sorteggiamo, iniziamo a vedere chi è la vincitrice. Allora, iniziamo, numero minimo 1, numero massimo 111. Siete pronte ragazze? Vado? Schiaccio? Vado. 1! Caspita! 1! Quindi faccio anche in fretta a contare. Caspita, non mi è mai successo, eh? Uno, allora, Selvitano, che ha scritto, wow, che meraviglia, bellissimo profilo, Federica Homesweet Home, grazie! Grazie, 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 grazie! Maria Selvitano, sei tu, sei tu la vincitrice di questo meraviglioso premio offerto da Cristina. Allora, mi raccomando, contattami in privato, contattami sulla mia pagina Facebook, su un messaggio privato e ti dirò come fare per ricevere questo meraviglioso dono. Nel frattempo colgo l'occasione, innanzitutto per fare complimenti a te che sei la vincitrice. E poi, per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, una ad una, perché siete veramente carinissime, lasciate dei commenti veramente meravigliosi, ma soprattutto il mio grazie va a Cristina, Cristina Olive. Non smetterò mai di ringraziarti, quindi continuerò fino allo sfinimento, perché, come ho già detto prima, rendi miei giveaway con un tocco speciale, con un qualcosa in più, perché sei una ragazza d'oro, una ragazza veramente, veramente preziosa. E quindi ti dico grazie, grazie, grazie. Andate a visitare il suo profilo Instagram e il suo profilo Facebook, perché ne vale la pena, ne vale veramente la pena. Con questo video io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, ma soprattutto al prossimo giveaway. Ciao ragazze! E complimenti alla vincitrice! Ciao! Ciao!